Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo in questo nuovo episodio per fare Cosa dice il contatore delle galassie? La cometa burlone della galassia Morino In pratica, dopo di questo, compariranno anche tra i cometi burlone Ops, andiamo qui Impara ogni cometa burlone che ci capiterà E apparsa una cometa burlona Ci dirà così, così Ombre oscure tra i cerchi Ci dirà sempre così E apparsa una cometa burlona Ogni volta che entrerà in una galassia E qui c'è una cometa burlona Comunque Comunque Che bella questa Evviva Io pensavo che nella galassia tribella Evviva si inizia con un'ombra Questa galassia Questa cometa burlone è la più semplice che ci ritrova No, quella più semplice è quella senza tempo Wow Ho visto sui trucchetti, sul discritto che ti danno sul gioco Mamma mia Ho fatto un sacco di salto Comunque Comunque Oddio mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo ancora quando mi sono immaginato questo momento E ce l'abbiamo fatta Yeah Quale sarà la prossima cometa burlona? Lo sapete che Credo che qualunque file Capi Comunque In una cometa burlona Di questa serie Ce ne sarà un botto di cometa burlona Se volete vi faccio vedere il mio file Se volete vi faccio vedere il mio file E vi faccio vedere quante Quante cometa burlone Comunque Ho un petto di cometa La stia completata Quante tante struttifiche Molete No questa 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 è Inizia a essere un pochettine E appassi una cometa burlona Comunque andiamo a farla Nel mondo burlone Andiamo a sorprendere Che ci serviranno per la fine del gioco Come non attraversano il portale Comunque In quale apparsa Eccola qui Non sapevo Un pochettino Difficile Ma pensate L'ultima cometa L'ultima cometa burlona Quante è difficile Mamma mia Fracasso Spino Spino In pratica Taglierò Ogni tentativo Per fin Oggi Ci sono solo tagli Sui fallimenti Questa qui E' la prima cometa Con Il timer Abbiamo 66 Un minuto Per Farli fuori Tutti Non L'ultima Fin non ce la faremo ce la potremmo non più fare no non ci credo non ce l'abbiamo fatta di tre vabbè ci vediamo quando ci riesco ok ne mancano solo due e ce l'abbiamo fatta ragazzi mancano solo dieci secondi ce l'abbiamo fatta spero che non ne compaiano altri per questo posso continuare il mondo 3 spero che adesso non ne compaiano più altri perché io vorrei un po' continuare il gioco lo sai che cosa mi è successo una volta? che io finivo la galassia facevo la prima stella della galassia e compriva la galassia galassia completata compariva la cometa comunque ve vi prego nooo pericolo comunque andiamo a farla spero che dopo questo siamo finite voi non capito voi non capite cioè cioè subito ti sfascia sfascia di comete comunque ultimo scontro fra il trottolone e e trivelle trivelle sicuri sei minuti vabbè ci vediamo quando è finito il video ok abbiamo una vita prima prima stella con uno di vita perfetto che stupido che sono ok gli ho ridato il colpo morire a questi pezzi cioè perché non ero concentrato ecco perché sono concentrato quanti minuti siamo ultimo colpo ragazzi e poi forse è l'ultima cometa questo è il più difficile si inizia a arrabbiare ok è descritto le sue trivelle azioni le sue trivelle ok ultimo colpo perfetto ragazzi ci rinviniamo alla navicella se no non è tempo di fare altre stelle no no ancora ma quante ne appangono non me li ricordavo così tanto sapevo quella lì grazie a questa galassia che mi piace troppo questa qui stella è un nuovo tipo di stella monete viola che non abbiamo conosciuto che non abbiamo conosciuto ombri cosa ombri primo misto tra ombre e monete viola oh my god oh my god io un minuto mi sono andato a fare questo ombri 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 oddio mi ricordo l'ultima volta che ho fallito si è super una regolazione se veniamo colpiti una volta sappiamo che abbiamo perso comunque questa stella è abbastanza facile se fallisco semplicemente la salto cioè colpito la salto comunque te ce la stiamo facendo 30 secondi non è niente ma non viene potuto capire quanti ce ne sono ci rivediamo da navicella un'altra vabbè e questo inizia ad essere difficile mamma mia folle corsa contro il discolone prima prima folle corsa da solo proprio senza altre stelle tipo vabbè presto 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 abbiamo 20 secondi ma tanto ci sono gli orologi ci sono anche il volo per fortuna perchè non c'è il volo cioè impossibile non c'erano gli orologi veramente dovevano fare di più e danno nooo no cavolo 10 secondi Svegliamoci Vai ricordi Certi posti verranno ribattuti Calmati bebe Tranquilli non fanno come il troll di super mario garazzi Comunque una bella stelletta Facciamo un'altra Quindi ci vediamo dopo Comunque ragazzi Noi ci vediamo in prossimo video Mamma mia questa no Noi ci vediamo in prossimo video In prossimo video faremo quella dannata Ciao